Che cos'è la Coconne e perché la realizzate ormai quasi ogni anno? La Coconne è una rievocazione di battaglie dal vivo, tornei, battagliole, scontri che nasce ormai da tanti anni. È un modo di vivere diversamente dal solito la rievocazione storica perché noi giochiamo in effetti perché c'è uno scontro, poi alla fine è sportivo, una squadra che vince e una che perde. Quindi in qualche modo è un modo diverso di utilizzare la storia e ricercare la storia del nostro. È una battaglia particolare perché nessuno vince a tavolino, cioè è proprio sul campo che è una particolarità rispetto alle altre città che fanno questo tipo di manifestazioni. Perché questa scelta? Sì, perché appunto lo spirito di gioco prevale sulla ricerca filologica dello stile e quindi non c'è una rievocazione di una battaglia già esistita. Lo spirito di gioco è permesso da un regolamento che abbiamo inventato e questa è una cosa originale che permette di bilanciare le due squadre. Quindi due squadre perfettamente bilanciate vuol dire che vince il migliore in effetti. Alle sue spalle c'è un accampamento. Come è strutturato quando siete arrivati qui? Come vivete in queste giornate quassù? Noi siamo organizzati con una struttura molto ampia perché la nostra è un'associazione culturale e sportiva ma in realtà vi fanno parte molti gruppi che vengono da tutta Italia. Abbiamo anche persone che vengono dall'estero, francesi qui stasera. L'organizzazione è ogni gruppo poi alla fine si ritrova nell'appuntamento annuale che è la Cocon. Quindi l'accampamento è organizzato, ognuno porta la sua attrezzatura, la sua tenda in stile storico più o meno legata a un periodo diverso per ogni compagnia, per ogni gruppo partecipante e quindi si allestisce questo ambiente che serve a noi poi alla fine per rivivere nella natura, nell'ambiente naturale, quindi anche estremamente piacevole dei momenti anche di rilassamento oltre che di battaglia e di scontro fisico. Per chi vuole partecipare come può fare? Ecco, sono necessari degli allenamenti. Questo sì perché non si arriva impreparati. Sia per essere attrezzati, abbiamo armature, armi costruite da noi, cioè ognuno si costruisce la sua, si intende, e poi soprattutto per sapere quello che ti aspetta perché ci vuole un po' di preparazione in tutto per poter giocare con noi.